Aveva nell'auto tutto l'occorrente per compiere i furti e la banda fermata dagli agenti del commissariato di Fano nel giorno della festività dell'Immacolata. Intercettata anche grazie al sistema di videosorveglianza della città e in collaborazione con i vigili urbani, la banda appare sia dedita ai colpi all'interno di abitazioni private durante le ore pomeridiane, sfruttando l'assenza dei residenti. Nella giornata di ieri, poliziotti coordinati dal dirigente Stefano Seretti hanno intercettato il veicolo che dopo aver effettuato dei giri sospetti in alcune zone residenziali di Fano e nei comuni dell'entroterra, verso le ore 17, si è diretto a Pesaro utilizzando la statale adriatica. All'alt, intimato dalle forze dell'ordine all'altezza di Fosso Segliore, l'auto ha accelerato bruscamente dirigendosi sulla panoramica Ardizio dove è stata bloccata. A quel punto i tre occupanti sono usciti dal mezzo e si sono dati alla fuga verso i campi inseguiti dagli agenti. Nonostante il buio, il fango e la fitta vegetazione di rovi e spine, i poliziotti sono riusciti a raggiungere uno dei fuggitivi che ha tentato inutilmente di sottrarsi all'arresto reagendo con violenza. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti gli strumenti da scasso come un cacciavite e una smerigliatrice usati per aprire gli infissi e forzare le cassaforti, ma anche delle torce elettriche utili per muoversi in ambienti bui. L'uomo, un albanese di 24 anni già noto alle forze dell'ordine irregolare sul territorio nazionale, è finito in manette per violenze, lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di strumenti per l'effrazione. Secondo l'ipotesi investigativa, farebbe parte di una banda di stranieri specializzata nel compiere in modo seriale i furti nelle case, in particolare nel centro nord Italia. In base agli accertamenti che hanno ricostruito il modus operandi, sarebbero soliti utilizzare l'autostrada e la superstrada per gli spostamenti, attendere il calare del buio per effettuare sopralluoghi a Pesaro, Fano e in altri comuni della vallata del Metauro, per poi colpire dalle ore 17 alle 22. Il mezzo utilizzato dalla banda è stato sequestrato perché appartiene ad un prestanome italiano intestatario di oltre 200 veicoli, un metodo utilizzato dai malviventi per impedire agli investigatori di risalire alle loro identità.